ciao a tutti sono sofia bentornati e benvenuti nel mio canale credo che il 2020 ce lo ricorderemo per sempre è stato un anno instabile complicato raro anzi più che raro direi l'unico per me e per tutti quanti ci ha permesso però di capirci un po di più di ascoltarci di entrare nella parte più profondo di noi stessi e come al solito ci sono stati progetti che abbiamo rimandato e che magari potranno essere portati a termine in questo video parleremo di alcuni consigli su come pianificare il nuovo anno obiettivi crescita personale sogni progetti insomma quello che ci piacerebbe fare durante questo nuovo anno prima di iniziare il video però mettete un bel like e iscrivetevi al canale perché ogni settimana escono nuovi video su vita all'estero viaggi video motivazionali e tant'altro che se siete capitati qui vi potrebbe interessare prima di organizzare e pianificare il 2021 facciamo una revisione completa del 2020 dovrete innanzitutto porvi alcune domande e mettere per iscritto quel che più vi ha segnato i successi ottenuti le esperienze inaspettate le spese importanti gli insuccessi dovete scrivere i momenti top e momenti no provate ad analizzare tutte quelle sensazioni a ricordare quei momenti a quello che sentivate e scrivete poi ciò che avete imparato da essi mettete tutto per iscritto i momenti no ci aiutano a capire cosa vogliamo e non vogliamo dalla vita metterlo per iscritto è un aiuto per capire meglio e sintetizzare il tutto e soprattutto da questi momenti bui possiamo migliorarci quindi quando abbiamo fatto un riassunto un riepilogo del 2020 dobbiamo poi scegliere i nostri obiettivi i nostri progetti quest'anno per natale ho ricevuto anche un'agenda eccola bellissima che adoro e ho deciso di appuntarci tutto quello che vorrò fare nel 2021 i miei progressi personali la mia crescita come valvola di sfogo perché no anche un diario personale questa agenda avrà tantissime funzioni per me e sarà fondamentale per il 2021 ho iniziato a scriverlo ieri e mi trovo già molto bene scrivere mi ha sempre aiutato a concentrarmi ad esprimermi e a organizzare la mia vita ovviamente potete utilizzare anche più di un quaderno dipende dai vostri obiettivi e le cose che volete appuntare iniziamo scegliendo i nostri obiettivi in base a ciò che amiamo fare a come ci sentiamo quando facciamo determinate cose possiamo sperimentare trovare ispirazione in ciò che non si è mai provato chi avrebbe mai detto che nel 2020 iniziava sono la kalimba non si è mai provato chi avrebbe mai detto che non si è mai provato chi avrebbe mai che poi non la so suonare benissimo che poi non è lo strumento della mia vita che poi non è un'azione che io svolgo tutti i giorni però comunque è una cosa che mi sono messa in testa di fare nel 2020 e ho imparato a strimpellare con la kalimba e il fatto di avere degli obiettivi ovviamente ci farà essere più produttivi si potrebbe stilare una lista non solo degli obiettivi durante l'anno ma anche mensilmente io la trovo molto utile fatevi trasportare scegliete in base alle vostre passioni a quel che volete da voi stessi e dal mondo esterno ovviamente però non fatene un'ossessione ovvero se non raggiungo quell'obiettivo sono una fallita no le nostre idee i nostri scopi cambiano in continuazione come cambiamo noi stessi è giusto avere dei sogni inseguire i propri desideri ma non facciamone una malattia per non procrastinare e seguire un ritmo potremo anche mettere dei mini traguardi con dei tempi di scadenza per esempio entro febbraio 2021 voglio leggere quel libro in questo modo potrete diventare anche più responsabili insomma si tratta di piccole cose che se non riuscite a fare non succede niente è semplicemente una buona attività per voi stessi potete porvi qualsiasi tipo di obiettivo non deve per esempio per forza essere lavorativo potrebbe essere per voi stessi per la vostra casa per i vostri viaggi per la vostra vita in generale ad esempio vi leggo due dei miei obiettivi del 2021 imparare un po di francese vorrei essere un pochino più costante nello studio del francese voglio imparare una nuova lingua non è facile con tutti gli impegni però ci voglio provare lasciar crescere i capelli sembra una cosa banale ma io so che ogni volta arrivata una certa lunghezza di capelli mi prende il matto e li taglio quest'anno ho deciso che non li taglierò e li farò crescere lunghi vediamo se ci riesco spero vivamente che questo 2021 possa ricondurci a una vita sana e normale noi intanto cerchiamo di goderci ogni attimo senza mollare mai che quello è l'essenziale spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere stato d'aiuto scrivetemi qua sotto in un commento se avete già provato questo metodo di scrivere i vostri obiettivi i progetti i vostri sogni insomma un diario personale e ditemi come vi trovate andatemi a seguire su instagram mi trovate come sofia disaster e iscrivetevi al canale perché ogni settimana escono nuovi video e quindi niente ragazzi vi mando un grandissimo bacio un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao